Si sposte, voli? Sono qui a presentare questo, che è il primo triathlon camp della regione, si tratta di una struttura realizzata insieme ad altre società sportive, Cingolani Triathlon, Pedale Chiaravallese, My Fitness Club, Finis Africa, l'hotel che ci ospita e questa struttura rappresenterà un punto di riferimento fisso per la pratica e la promozione delle multidiscipline, ma anche del ciclismo. Si tratta di una piscina, è prospicente questo campo di mountain bike, questo percorso per la corsa intorno e questo consentirà anche in futuro di mantenere una struttura di riferimento per la pratica delle multidiscipline e siamo contenti perché è la prima che riusciamo a realizzare nella regione Marche. Grazie! 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 Nasce a Senigallia il primo triathlon bike park della regione grazie alla collaborazione fruttuosa e feconda delle nostre associazioni regionali e comunali e questo sarà un impianto che va ad inserirsi all'interno di un grande patrimonio sportivo ma anche naturale della nostra città e credo che risponderà i tanti appassionati di questa disciplina sportiva, quindi applauso e grazie ai responsabili per averci dotato come Senigallia di questo grande impianto sportivo. Grazie! 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 Grazie!